Facciamo il punto sulla campagna vaccinale della OS4 Veneto Orientale che in questi giorni ha raggiunto per il Covid l'80% della popolazione vaccinabile, quindi la cosiddetta immunità di gregge. Nel territorio dell'ASL4 si può finalmente affermare di aver raggiunto l'immunità di gregge. Sono oltre 315.000 le dosi di vaccino somministrate alla popolazione del Veneto Orientale, di cui 20.131 dai medici di famiglia. In termini percentuali significa che l'80% della popolazione è stata vaccinata. Il dato emerge dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL4, dal quale si evince nel dettaglio che più di 156.000 residenti, pari al 76% della popolazione, ha completato il ciclo vaccinale. Poco meno di 8.000 residenti, il 4%, hanno effettuato la prima dose e quindi a breve completeranno il ciclo vaccinale. Gli anziani, a partire dai 70 anni, si confermano i più vaccinati con una percentuale che sfiora il 90%. Tanti anche i vaccinati di età compresa tra i 12 e i 25 anni che raggiungono il 64,6%. Molto bene nella campagna vaccinale, soprattutto i giovani dai 12 ai 25 anni ai quali avevamo dato l'accesso libero che in questo periodo, nel periodo estivo e postestivo, hanno aderito in maniera molto importante. La decisione di rendere obbligatorio il Green Pass nei luoghi di lavoro dal 15 di ottobre ha recentemente incentivato le prenotazioni di prime dosi. Nei prossimi sabato e domenica i centri vaccinali dell'ASL4 saranno aperti per accogliere 25.000 persone reclutate con chiamata attiva o lettera a domicilio, in età compresa tra i 30 e i 59 anni che non si sono ancora vaccinate. Ci prepariamo ad affrontare la stagione autunnale con una sicurezza che chiaramente ci permette di essere tutti più tranquilli, ma sempre con attenzione ai comportamenti e all'utilizzo dei dispositivi di protezione.